Il pubblico di Mediaset non la prenderà bene. Forum e Barbara Palombelli si fermano. La notizia è ufficiale. Forum è uno dei programmi più longevi della televisione. La trasmissione ha esordito il 29 settembre 1985 venendo trasmesso da allora con continuità, diventando uno dei programmi di maggior successo delle reti Mediaset. Alla conduzione del programma si sono alternate nel corso degli anni solo donne. Catherine Spack, Rita Dallachiesa, Paola Perego, Barbara Palombelli. Inizialmente il ruolo del giudice fu ricoperto unicamente da Santi Liccheri, successivamente vennero aggiunti altri giudici alternati fra loro, come Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato, Maretta Scocca, Francesco Foti e Nino Marazzita. Anche quest'anno il programma ha ottenuto ottimi risultati con una media del 19.2% di share 1.400.000 spettatori. Le puntate più viste hanno toccato medie di oltre il 23% di share. Lo sportello di forum, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, è il programma più visto del daytime di Rete4. Numeri che hanno fatto sbilanciare il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, forum è uno degli appuntamenti più amati della programmazione di daytime di Canale 5. Che Barbara Palombelli conduce con grande professionalità ed empatia, con lei, forum è sempre aperto a temi cruciali della vita di ogni spettatore. Una linea editoriale sempre premiante, per la quale ringrazio Barbara e il suo team autoriale e produttivo, squadra collaudatissima e super affiatata. Grazie. Parole simili arrivano da Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4. Lo sportello di forum, con il suo costante, straordinario successo, dimostra che una televisione brillante, provocatoria, sintonizzata sui grandi temi della convivenza sociale e dei conflitti che ne derivano, è senza tempo. Barbara Palombelli, che è volto, anima e testa di questo classico contemporaneo. Anche i fuoriclasse, però, hanno bisogno di riposo e domani, 31 maggio si chiude la stagione di Forum e lo sportello di Forum, entrambi condotti da Barbara Palombelli. Tornerà il prossimo settembre.